Grazie a tutti, come al solito benvenuti al nostro incontro del giovedì e questa settimana dedichiamo il nostro incontro ad un tema appunto interessante che è il famoso piano B, di cui adesso ci parlerà Simone Segnalini, tema che è venuto fuori sicuramente molto di più durante la pandemia, quindi cos'è la continuità del business, come assicurarla, è diversa dal disaster recovery, adesso cercheremo di capire di più e meglio e poi avremo anche la presentazione di un caso concreto seguito dal nostro team guidato da Nello Rapini, quindi Simone a te la parola e prego. Grazie Elia, grazie a tutti, siamo pronti per questo viaggio, l'abbiamo voluto chiamare l'importanza di avere un piano B perché business continuity è un qualcosa che abbiamo sentito sempre parlare magari dalle notizie eccetera e l'associamo a tematica di disastro, a tematica di pandemia, a tematiche che sicuramente possono creare qualche problema nella vita reale ma soprattutto anche nella vita dell'azienda, quindi nella nostra società. Il nostro, quello che abbiamo immaginato come viaggio in realtà sarà molto rapido, molto veloce, volevamo farvi avere un po' di confidenza con questa tematica, quindi capire di che cosa stiamo parlando perché è importante, è importante per noi come RSM ma è importante molto di più per le aziende con cui collaboriamo e ci volevamo mettere alcuni punti chiave della tematica che possono aiutarci anche a comprendere sia l'impatto sia come viene applicata presso le aziende che aiutiamo, che supportiamo e poi con Nello raccontiamo un nostro caso di successo, un caso di un'importante azienda italiana che abbiamo aiutato, che stiamo aiutando proprio nell'adottare un piano di business continuity. prima di tutto forse è bene darci un po' di coordinate anche un po' per navigare in questo mare per alcuni ignoto, quindi sono partito da una definizione continuità operativa o business continuity, in realtà è definita da una norma, una norma ISO, quindi da uno standard e ci è quello che ci viene detto che è la capacità di un'organizzazione di continuare a erogare prodotti o servizi in tempi accettabili, quindi in livelli predefiniti e accettabili di operatività a seguito di interruzione, a seguito di incidente, un blackout, un terremoto, un attacco informatico sono le prime idee, i primi esempi che ci possono balzare in mente quando pensiamo a un'interruzione, vedremo che cosa vuol dire, naturalmente in termini di impatto sappiamo che cosa vuol dire, quello che ci interessa e quello che interessa l'azienda è ripartire è ripartire e avere la capacità di ripartire in termini accettabili, in un lasso di tempo che permette il ritorno al mercato, il ritorno in situazioni normali, di normalità. Quindi credo che sia anche importante parlare di un secondo, di una seconda definizione che è quella là di resilienza, resilienza, resilienza organizzativa che sempre l'ISO 22300 ci indica come capacità di assorbire e adattarsi in un ambiente di evoluzione. Naturalmente per rimanere sempre attivi, sempre competitivi su un mercato di riferimento, le nostre aziende hanno bisogno in questo momento di fornire prodotti e servizi, ma fornire prodotti e servizi che siano adeguati, adatti a un ambiente che si evolve e questo vuol dire che anche il fatto di continuare a fornire prodotti e servizi, anche in momenti di interruzione, questa è la vera resilienza, ecco perché resilienza e business continuity sono termini che vanno sempre molto a braccetto. Non vi voglio complicare la tematica, ma vi parlo di un terzo termine, che secondo me è quello che avete sentito molto più spesso, il termine è disaster recovery. Ve ne parlo perché in realtà molti erroneamente associano il termine disaster recovery al termine business continuity. In realtà il disaster recovery è un qualcosa che è molto più tecnico, molto più tecnologico, ossia è l'insieme delle azioni che vengono poste in essere per ripristinare l'infrastruttura tecnologica dell'azienda, a seguito di eventi dannosi, naturalmente c'è una similitudine. Però da quello che ci siamo detti, in realtà disaster recovery abbraccia quell'ambiente tecnologico e tecnico che invece nella business continuity è molto più ampio. Sicuramente per imprese che hanno una componente tecnologica molto più avanzata, molto più complessa, il termine disaster recovery è un qualcosa che è chiave nel processo di business continuity. Ma pensiamo a delle aziende che in realtà all'interno del proprio business hanno sì un ambiente tecnologico importante, ma non è il core business dell'azienda, parlo di società di persone, società in ambito agricolo, e che quindi vedono il proprio business su ambiti e su processi che non sono dipendenti esclusivamente dall'IT. in realtà la business continuity abbraccia tutti quei processi che sono core dell'azienda. Quindi disaster recovery è sicuramente un punto chiave del continuity management, quindi della continuità operativa. Io direi che è chiave se l'azienda ha un impatto tecnologico importante, ma non sono la stessa cosa. Uno è un di cui dell'altro. Vorrei a questo punto provare un po' a ragionare su fatti reali, fatti reali che in realtà ci fanno anche, credo, capire gli impatti e l'importanza di avere quel piano B di cui parlavamo all'inizio. 2011, un'eruzione vulcanica in Islanda ha causato la chiusura del traffico aereo praticamente in mezza Europa, difficoltà nelle aziende del settore turistico e soprattutto anche in aziende dell'aeronautica, quindi traffico aereo proprio per l'impossibilità di utilizzare lo spazio aereo fino a centinaia di migliaia di chilometri di distanza da dove in realtà era avvenuta l'eruzione vulcanica. Lufthansa ha stimato che in quel periodo ha perso fino a 100 milioni di euro a causa dell'eruzione, a causa dell'impossibilità di effettuare quei tragitti e quindi di effettuare quelle tratte. In questo caso naturalmente era un evento catastrofico che non era stato preventivato, su cui non si era valutato l'impatto e non si erano delle eventuali contromisure, ad esempio effettuare delle tratte diverse che arrivavano allo stesso punto di arrivo, quindi pensare in anticipo quale potrebbe essere il rischio permette all'azienda di identificare contromisure per riporre in sicurezza quei processi e far ripartire quei processi in un tempo adeguato. Esempio due, molti hanno sentito parlare, immagino, del malware, del ransomware WannaCry, era il 2017, ha colpito migliaia di aziende in tutto il mondo causando interruzioni nelle operazioni, era un attacco informatico che bloccava e che criptografava i dati delle aziende che erano state affette da questo ransomware, richiedendo un riscatto. Esempio di una società britannica che vedete qui sullo schermo, NHS. NHS era una società di servizi sanitari che gestiva appuntamenti e visite in ambito sanitario con pazienti e con B2B, ha stimato fino a 92 milioni di sterline di danni derivati dal blocco delle visite, la cancellazione di eventi, quindi di appuntamenti per i pazienti, e in più i costi legati al ripristino dell'infrastruttura derivante dall'attacco informatico. Anche in questo caso l'attacco informatico era un qualcosa che forse era più prevedibile di un'eruzione vulcanica. Naturalmente non si erano prese le contromisure giuste per prevenire l'eventuale rischio, che in questo caso era un rischio informatico e di sicurezza delle informazioni, che poi è diventato anche un rischio di continuità. Perché in quel caso, per quel periodo, in realtà il business dell'azienda è stato completamente bloccato. Questo vuol dire business dell'azienda bloccato, processi bloccati, ricavi annullati e in più, anzi, costi volati alle stelle. Terzo tema, 2009. Questo era un esempio reale di un mio ex cliente, 2009, operatore di telecomunicazioni, ha subito un attacco, un'interruzione del servizio a causa in realtà di un problema tecnico della rete, ossia era stata fatta una modifica alla rete, ai sistemi di rete, che ha generato un down della rete per svariate ore, e quindi ha causato l'interruzione del traffico per i clienti. Molti clienti non riuscivano a parlare, non riuscivano a gestire traffico dati, era un cliente mobile. Oltre alle tematiche di, naturalmente, reputazione, c'è stato un aumento importante di chiamate al service desk, quindi con aumento di richieste di informazione, aumento di ticket aperti, e quindi aumento di costi di gestione proprio del customer care, in più una serie di fornitori che si appoggiavano a quella rete, hanno visto i propri clienti lamentarsi, quindi un effetto a catena che ha portato in realtà a controversie legali dell'azienda con i propri clienti wholesale, e in alcuni casi, anche oltre al pagamento di multe, anche rescissione di contratti importanti. Anche in questo caso, naturalmente, l'evento disastroso sicuramente non aveva preso in considerazione un aspetto importante, quello del customer care, ma non tutte le attività accessorie che potevano essere la conseguenza di quel problema. Quindi abbiamo poi iniziato a capire per quale motivo è importante la tematica di continuità. Sicuramente l'obiettivo della business continuity è quello di salvaguardare il business dell'organizzazione, il funzionamento dei processi, della supply chain, in caso di eventi che lo mettono a rischio, eventi che possono essere più o meno prevedibili, in alcuni casi ci siamo anche trovati ad affrontare eventi forse imprevedibili, come per esempio il tema della pandemia. Se io dovessi ricordare tutti i piani di continuità aziendali fatti prima del 2019 e tutti i rischi che vengono analizzati in un piano di continuità aziendale prima del 2019 credo che il rischio di pandemia e quindi di blocco delle operazioni a causa di una pandemia dove nella mia testa la pandemia prima del 2019 era peste, colera, cose che effettivamente erano fuori dalla normalità, nel mio risk assessment sicuramente avevano un impatto importante, una probabilità forse pari allo zero. Il 2019-2020 in realtà ci ha insegnato che questo pari allo zero forse è un qualcosa che non sempre riusciamo a stimare, ma non è detto che in realtà possa verificarsi. Ecco perché effettivamente poi dopo la pandemia molti piani di continuità hanno visto la necessità di aggiornamento proprio per ripensare alcuni rischi che qui abbiamo riassunti in maniera molto generale rischi operativo, finanziario, reputazionale, di compliance, di sicurezza, però ecco, se andiamo proprio nel concreto possono essere rischi di pandemia, eventi naturali, posso immaginare anche scioperi, scioperi del nostro personale o rischi derivanti per esempio da conflitti internazionali che possono aumentare il prezzo delle materie prime o eliminarle perché potenzialmente se i nostri, in questo momento, se i nostri operatori di supply chain, se i nostri fornitori fossero tutti nell'area dell'est Europa, potenzialmente potremmo esserci trovati in una situazione di problema nel poter andare a provvigionarci in termini di materie prime. Quindi questo tema di considerare la continuità operativa a tutto tondo dà la possibilità di avere il piano B nel caso in cui avvengano problemi legati a eventi più o meno prevedibili. Abbiamo messo insieme tante informazioni e come avete penso capito volutamente non ho parlato di temi tecnologici perché in realtà la tecnologia l'IT è solo una parte di questa analisi ecco perché voglio continuare a stressare business continuity non è un tema che riguarda l'IT ma riguarda proprio i processi dell'organizzazione. Una cosa interessantissima che in realtà si parla di resilienza anche nel PNRR è uno dei principi fondanti del PNRR è proprio quello della resilienza. Quindi alcune di quelle riforme che permettono alle società di andare verso la digitalizzazione verso la sostenibilità in realtà sono proprio volte a migliorare la continuità produttiva e l'erogazione dei servizi quindi in realtà in questo momento sempre di più sempre maggiormente le aziende da una parte hanno bisogno di pensare alla continuità operativa perché l'ambiente che le circonda richiede di pensare i potenziali rischi sulla continuità dall'altra hanno anche la possibilità di pensarci in maniera più strutturata perché ci sono delle iniziative delle riforme volte ad aiutare le aziende nel migliorare la propria continuità produttiva e di erogazione di servizi. Ma cosa vuol dire operativamente continuità operativa? qui ci siamo persi alcune lettere però tanto ve le racconto in alcuni settori di business sicuramente la continuità operativa può essere un tema legato ad un outsourcing quindi in alcuni settori sicuramente l'outsourcing è molto presente basta pensare al mondo bancario quindi attenzione a non pensare la continuità operativa come un qualcosa che rimane e risiede all'interno dell'organizzazione se abbiamo un outsourcing molto elevato di processo potenzialmente dobbiamo essere attenti e dobbiamo creare un un ambiente di controllo che garantisca una continuità anche dei nostri outsourcer immaginate un mondo bancario dove sicuramente l'IT è altamente dato in outsourcing verso alcuni gestori di servizi IT io posso definire la mia continuità operativa in maniera ottimale ma se il problema se si bloccano i sistemi del mio outsourcer sicuramente la mia continuità viene compromessa quindi il tema di continuità operativa sicuramente in questa tipologia di business in questa conformazione deve avere un occhio anche ai miei fornitori di servizi principali sicuramente il tema della complessità dei sistemi informatici è importante ma attenzione a non pensare solo ai sistemi informatici legati al financial reporting se sono una società che gestisce supply chain o gestisce la produzione industriale sicuramente il tema del financial reporting è uno dei processi che l'azienda deve mettere in sicurezza ma per la continuità operativa del business potenzialmente il mio primario obiettivo è quello di mettere in sicurezza i miei sistemi di produzione perché se non riesco a fatturare a generare fatture avrò un impatto di un certo tipo ma se non riesco neanche a produrre i miei prodotti potenzialmente alla fattura neanche ci arrivo quindi la devo lavorare quando parlo di continuità operativa del business devo iniziare a pensare in ottica di priorità dei processi e quindi dei rischi relativi coinvolgimento di soggetti invece di shared service center di gruppo piuttosto che su diverse società è un'altra delle tematiche che parlando di continuità operativa può essere importante anche perché molti dei nostri gruppi soprattutto gruppi multinazionali stanno concentrando dei servizi in centri di competenza quindi posso immaginare sicuramente l'IT ma anche amministrazione quindi creando ad esempio delle società che gestiscono l'amministrazione per tutte le società del gruppo anche in questo caso se io penso alla continuità devo porre l'attenzione a questi centri di competenza perché ancorché io magari non gestisco l'amministrazione in casa devo essere sicuro che i miei share service center abbiano un piano di continuità perché nel caso si fermano loro sicuramente l'impatto verso il mio business potrebbe essere più o meno diretto quindi naturalmente anche sulla base dei settori di business potrei trovarmi a considerare ad avere dei piani di continuità completamente diversi l'uno dall'altro la cosa principale ecco è quello che andremo a vedere proprio nella slide successiva il punto chiave è avere ed effettuare un analisi dei rischi che in gergo tecnico qua viene chiamata BIA quindi business impact analysis quindi un'analisi di come i processi di business e il mio business in particolare può essere impattato da eventuali rischi o eventi disastrosi ma andiamo con calma e vediamo quali possono essere gli elementi chiave di un progetto di business continuity ma più in generale di un sistema di gestione della continuità operativa li abbiamo riassunti in questi quattro pillar che in ottica anche progettuale sono anche le quattro fasi bene o male di un progetto di business continuity assessment il primo come vi dicevo è un un processo di analisi dell'impatto nel tempo di un'interruzione sull'organizzazione quindi io devo capire il business dell'azienda lo devo scomporre nei singoli processi e devo capire l'importanza di quei processi per il business dell'azienda vi faccio un esempio sicuramente tutte le aziende hanno un processo di gestione delle risorse umane nel momento in cui c'è un evento disastroso per un'azienda purtroppo lo devo dire il fatto di pagare gli stipendi potrebbe non essere il primo dei problemi ovvero è un qualcosa che avviene ogni mese quindi io ho un mese dal momento in cui avviene l'evento disastroso per far ripartire quel processo questo vuol dire che sicuramente quello non è uno dei miei processi principali e prioritari potenzialmente se sono un'azienda di produzione la mia prima la priorità in quel caso è far ripartire la linea produttiva quindi avrò una priorità priorizzazione del processo di produzione rispetto al processi di gestione delle risorse umane piuttosto della formazione del personale piuttosto che i processi anche di amministrazione se io non emetto fatture si c'è un impatto potenzialmente sull'agenzia delle entrate però in un evento di disastro potrebbe non essere quello uno delle miei problemi risk assessment naturalmente molto legato al tema di identificazione dei processi critici è valutare quali possono essere i rischi che impattano quei processi quindi quali possono essere le interruzioni che io posso dover affrontare e quindi ci siamo detti essere rischi operativi si può rompere la macchina potrei avere uno sciopero potrebbero esserci degli interventi di manutenzione straordinaria sulla linea produttiva fino a eventi straordinari che può essere l'incendio un allagamento all'interno degli uffici o eventi endogeni quindi esterni tutto questo entra all'interno di un processo di valutazione di quel rischio e naturalmente non deve essere trasciato l'apporto all'interno dei miei processi di eventuali fornitori esterni proprio perché come dicevamo in precedenza il fornitore esterno se viene se il fornitore esterno subisce un'interruzione una stessa interruzione direttamente vengo io impattato a livello di processo quindi sicuramente l'identificazione e la valutazione delle eventuali minacce anche relative ai fornitori esterni è una delle tematiche da mettere all'interno di questo processo di valutazione del rischio ho analizzato i miei processi e la criticità dei miei processi e anche l'eventuale apporto di fornitori critici ho identificato i rischi a cui sono e posso essere esposto ed eventuali azioni che posso fare per mitigare quei rischi tutto questo viene condensato in un processo in un piano di continuità operativa che racchiude tutto questo quest'analisi ma non fa solo quello perché deve dare delle istruzioni a coloro che devono far ripartire la macchina in caso di un evento disastroso e deve dare una priorizzazione di come quella macchina deve ripartire è un po' quello che succede quando ogni tanto nei nostri stabili viene effettuato il test antincendio viene lanciato l'allarme si procede con un piano di evacuazione naturalmente tutti devono sapere chi si occupa del piano di evacuazione dove si deve andare in questo caso di problematica in questo caso di allarme e quindi qual è il percorso che si deve effettuare per arrivare in un posto sicuro finito l'allarme si può tornare al posto di lavoro il piano di continuità operativa in grande funziona nello stesso ed antico modo deve dare le indicazioni di come far partire i processi con quale priorità con quale identificando quali sono i responsabili di questo piano di in questo caso non di evacuazione ma proprio di continuità operativa ossia chi sono i soggetti deputati a prendere le decisioni e a dire cosa fare e come farlo e deve dare proprio un'indicazione di come vengono fatti ripartire i vari processi non a caso ho fatto l'esempio del test di antincendio perché anche il business continuity plan per essere efficace non deve essere solo scritto ma deve essere anche testato perché non possiamo permetterci di provare il nostro piano solo in caso di evento disastroso voi immaginate in caso di terremoto provarsi a leggere il piano di continuità e non sapere chi contattare cosa fare dove andare naturalmente anche il piano di continuità come la nostra prova antincendio viene e dovrebbe essere testato annualmente proprio per provarsi e verificare se tutto quello che abbiamo scritto è fattibile e quindi in alcuni casi faccio fare una risata in alcuni casi si spengono le linee produttive si vede come sta ripartendo o come si riesce a far ripartire si spengono i sistemi e si fa una prova a freddo per farli ripartire proprio per vedere ad esempio se fermando il sistema in un sito produttivo riparte la linea parallela che era stata identificata ad esempio come piano di continuità proprio per verificare in un ambiente controllato quello che in realtà in un momento critico potremmo dover affrontare ripartire un momento ripartire potremmo potremmo in un momento che povemmo potremmo potremmo Grazie.